Silvia, arriva tra un'ora. Non sono qui per Silvia. Ti faccio un caffè? Fuori c'è Giorgia con gli amici, c'è Fabio, ma sei pazzo? Sì. E te? Bevi il caffè e batte. Che cos'è? Aprilo. Ma ti sei bevuto il cervello? Ci siamo visti un paio di volte che fai, mi regali un anello. Non so nemmeno se ci rivedremo ancora. È per questo. Così anche se non ci vedremo più saprai che sei la donna della mia vita. 50 lire quella tirchia. Grazie per il caffè. Grazie per il caffè.